gelada e poi l'ha apriato il microfono controllare anche ok perfetto chiamiamo un po' qualcos'altro aggiungiamo adesso il metacanthusauro lo posso già produrre ma lo produciamo alla fine perché come predatore è più è meno indicato per l'inserimento almeno finché non abbiamo tutti gli altri animali mentre invece adesso dovrebbe esserci tutto guardiamo soltanto aspettare un po' vediamo un po' possiamo pensare adesso alle costruzioni per i civili quindi tutta la questione edilizia più che altro quindi andiamo con questo ma questo anzi no prima andiamo con due tel ne voglio poter avere uno qui e uno se non qua qua vi ho avuto un altro anche di qua fatto vicino ecco quasi ma perfetto uno di questi avrà bisogno di collegamento specifico che però andiamo a costruire dopo prima questo dovrà stare a al centro adesso bisogna solo restare mi serve una strada qui un'altra qui perfetto problemi di corrente elettrica che risolviamo subitissimo ok qui e qui no eccolo questa è un'ottima opportunità e può davvero aiutare la divisione intrattenimento considera l'offerta allora arrivati a questo punto ci serve tutto andiamo a controllare che punto sono i nuovi dinosauri ecco infatti sono tutti pronti quindi danniamo un veicolo e andiamo a risolvere quello cosa è successo qua come c'è così L'hitbox di alcune piante è qualcosa di ridicolo, di farla entrare a caso. Purtroppo per quelle ci vuole Carmageddon, prossimamente sul canale non ci penso nemmeno, non per il momento adesso, con quel gioco sono una mezza afrana. Allora, 3, 4, 5, quindi. Ok, ecco qui, aspettiamo che esca da recinto così non andiamo a bloccare il passaggio, le finanze vanno bene, qualunque cosa tu stia facendo, continuo a... è complicato di mettere sedative. No. Preso. Preso anche questo. Già. Preferisco... La fine giochi di corsa sono interessanti ma non mi hanno mai preso troppo, eccetto Mario Kart in generale, però da definire un racing game fino a un certo punto, quasi un party game. però Carmageddon è proprio uno di quelli che è bella l'idea ma non ci riesco a giocare. proprio... misba. Ok. c'entra questo. E' anche il terzo. C'entra questo. E' anche il terzo. O. Boa, Sì sta. Signore e signori, siamo essi in viaggio di dare un benvenuto in barco a un Elkrosaurus. Allora, i piccoli li portiamo di qua, con i pachicefalosauridi e i dragorex. In viaggio per la raccolta della risorsa. Portiamo gli altri di qua. Non qui, ma qua. Ah Stefano, se vedi in chat di nuovo Nesi Ludovico che adesso dovrebbe essere bannato, sbannalo pure tranquillamente, dovrebbe aver risolto quella situazione lì. Speriamo. Intanto adesso sistemo qua. Long story short, lo racconto poi. Tanto di qua. Attivo anche il filtro della chat. No, ho sbagliato di nuovo. Riprendiamo la chat. Questo lo chiudiamo. Questo. E file. Nesi Ludovico. Tutto attaccato. Ogni tanto dovrebbe passare. Ok. Qui funziona. Si controlla eventualmente. C'ho l'altro con i moderatori. Ok. Funziona. Funziona tutto. Si, si, tranquillamente. Poi la peggio ci sono di nuovo io. Ok. Pentaceratops 2. Perfetto. Allora di qua. Non l'avevo ancora mandato. Quindi. Questo. Questo. E. Perfetto. Di qua siamo in ordine. Facciamo un'altra. Missione. No. Siamo ancora bloccati. Comunque sia tra. Quindi soddisfazione 0.70. Mantieni valutazione. Ok. Eliminiamo quello della valutazione. Non ci serve adesso. Ora come ora. Porta miglioramento. Costo ricerca. Perfetto. Ho portato a termine l'incarico con successo. Non è passato inosservato. Ok. Allora. beh adesso lì è goliardia che non ha preso il giusto contesto questo posto lo rende ancora più pericoloso questo contratto può esserci utile per la sicurezza allora steguissavo il 75% quindi questo no, ah, devo ancora finire l'altro progetto bene intanto cosa produciamo? lo dobbiamo aspettare vediamo qua vediamo come vanno i centrosauri qui loro non faccio l'intra perfetto ma l'habitat va bene qui, piuttosto che questo cosa è migliore da fare? cioè oltre a quello sarebbe anche attività no visita no è recinto un'attività questo e lo mettiamo qui in fondo no 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 perfetto perfetto no 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 no